Abbiamo un verdetto a maggioranza, è meglio dire per farvi capire quello che dicevamo prima, abbiamo un giudice che dà il verdetto all'angolo blu Stefano Galimi, abbiamo un giudice che dà il verdetto all'angolo rosso Andrea Roberti e abbiamo il terzo giudice che dà un verdetto pari con preferenza all'angolo rosso Andrea Roberti, abbiamo il terzo giudice che dà un